Nel libro lei si rivolge anche al boss più potente di Cosa Nostra, che è ancora in libertà. Qual è il suo messaggio? Io scrivo a Matteo Messina De Naro una lettera diversa rispetto alle altre che io ho scritto, insomma è un dialogo ininterrotto, quello tra me e il boss, ed è una lettera di resa, amara, senza appello, perché secondo me la stagione della lotta alla mafia è finita. L'antimafia oggi non ha più senso, si è risolta in uno sterile parlarsi addosso, vuota di contenuti, preda della retorica anche più sciatta. In questo clima, in questo contesto è facile che si aggirino affaristi, gente senza scrupolo, tutto un popolo di partite IVA che lavora grazie ai progetti sulla legalità o che fa dittatura di parola come memoria, parole importanti come la memoria e soprattutto in questo contesto non solo ci sono i profittatori, ma anche la complessità del fenomeno mafioso oggi si è persa di vista. E però non ha mai avuto paura, ha detto, di schierarsi dalla parte di chi si oppone alle mafie. Ora questo libro comincia con una frase terribile che io non ho mai avuto paura, adesso sì. E la parola è di sorrentamento, di non sapere chi hai attorno, chi hai accanto, chi stai lottando, perché lo stai facendo, di non aver compreso molto e di non aver soprattutto voluto comprendere che è ancora più grave. Parliamo invece degli appuntamenti che si svolgeranno sabato 7 maggio nella città della Fortuna e saranno ben due. Sì, doppio appuntamento perché parleremo di libreria nel pomeriggio contro l'antimafia e poi la sera ci sarà invece un reading di Dormono sulla collina, che è il mio libro precedente. E quindi la sera a teatro faremo uno spettacolo con alcuni pezzi del libro, un piccolo monologo sull'attenzione, sulla meraviglia e dei momenti musicali. Ci sarà divertirsi, spettacolo per tutte le famiglie.